Voi, Qualità Benessere organizza questi webinar proprio in… …lo stimolo che viene da moltissimi di voi, quindi io non perdo tempo, ringrazio, welcome to Peter Daniels, visto che anche Peter è qui presente con noi e siamo lieti di averlo con noi, ringrazio del Primo Franco ma anche tutti gli altri direttori che hanno pensato a questa cosa già da tempo, volevamo farlo in presenza, ahimè! Siamo ancora qui a distanza, speriamo presto di poter riprendere a farlo in presenza e poi va bene, avete ricevuto tutti i 7 day dei prossimi appuntamenti che poi magari verso la fine magari li riprendiamo velocemente per ricordarvi. Buon lavoro a tutti e do la parola a Mario che coordinerà i lavori di oggi. Mario Ieso, scusate, coordinatore tecnico di Qualità Benessere e poi collegata a Barbara Coin di Qualità Benessere e anche Massimo Giordani, questo è il team presente oggi. Ok, grazie Giorgio, un buongiorno a tutti e un ben arrivati in questo webinar, webinar molto partecipato perché vedo che c'è ancora gente che si sta collegando ed è un webinar, come diceva correttamente Giorgio, era stato pensato ancora di ritorno dal nostro viaggio studio dell'Olanda, in Olanda, Belgio-Olanda, ma in realtà la qualità dell'abitare è un tema che con il marchio Qualità e Benessere affrontiamo ormai già da lontano 2005. in tutti i benfare che abbiamo organizzato, una parentesi sulla qualità dell'abitare, sulla qualità anche del lavorare nelle strutture, l'abbiamo sempre trattato. E già dal 2005 eravamo consapevoli che le nostre strutture residenziali per anziani, in termini di involucro avevano delle problematiche. Involucro la scatola e tutto quello che ci sta dicendo. Delle problematiche di disfunzionalità, di qualità della vita per le persone anziane della struttura. Devo dire che la pandemia non ha fatto altro che accelerare una sorta di obsolescenza degli ingolluchi nel quale ci troviamo a operare e nel quale gli anziani residenti vivono tutti i giorni. Un'obsolescenza che è stata segnata dalla pandemia dove abbiamo dovuto adottare misure di tipo strettamente sanitario e dove la permanenza degli anziani con i parametri che abbiamo, le nostre strutture, i parametri della camera, il modello organizzativo e il modello infrastrutturale che c'è nelle strutture degli interi zanziani, fatto sì che la qualità della vita fosse alquanto difficile da mantenere in una struttura, in struttura per le anziani. E quando in realtà all'estero abbiamo visto scelte di tipo infrastrutturale completamente diverse. I nostri parametri, i 12, i 14, con le deroghe, 16, 18 metri quadri per stanza per uno o due persone, non sono più sostenibili. Non sono più sostenibili, insieme a questi parametri non sono più sostenibili il modello organizzativo e cittadino. Infatti abbiamo sempre ragionato anche in termini di qualità, qualità, strutture leggere e quindi di altre tipologie di servizi. E proprio oggi con Franco Iurlaro, direttore dell'IPAB Luigi Mariutto, con Silvia De Rizzo, direttore del centro servizi Villa Serena di Verdano, con Davide Zennaro, responsabile dei servizi, di connessione del centro servizi, fermo un sistro verbato. E poi con l'amico architetto Gianluca Darbo dell'Università di Firenze andremo a ragionare sul concetto di come poter innovare, quale qualità dare, quale qualità per l'anziano residente e quale qualità per anche l'operatore, non vorrei trascurare, che deve operare. Ci saranno poi una serie di testimonianze e di esperienze, una che sarà il direttore Giorgio Pavan, direttore Isolo dell'Isola Giorgio Pavan, che ha già implementato il territorio di interviso, Borgomazzini, una realtà di coausi di successo. Avremo poi l'intervento di Peter Daniels, che con Humanitas in Olanda ci ha mostrato la loro interpretazione di strutture residenti italiane, che ci insegnerà il business della felicità, ci raccomperà del business della felicità e poi avremo l'esperienza di roberetto di una struttura integrata nel territorio e quindi una struttura che rappresenta un luogo di comunità. Però non voglio togliere la parola, il tempo, ai redatori e quindi passo la parola a Franco Iurlaro, direttore di DIPA, Luigi Marlito, che avrà molto più cose da dire. Ok, buon pomeriggio a tutti. Il mio compito era introdurre, quindi ho fatto una riflessione su come introdurre questo incontro e ho pensato di fare dei passaggi su come in questi anni se ne è parlato dei temi della qualità dell'abitare del senior housing, alcune riflessioni odierne e poi una breve esperienza che non è quella tra le quali oggi ascolteremo l'azione, ma è quella diversa da altre perché nasce in forma autogestita e la trava in sol di Cino Madrid, che vi narro in poche slide perché è un po' diversa da quelle su cui siamo stati abituati a ragionare. Adesso cerco di condividere lo schermo. E voi mi dite se c'è lo schermo? Ok, perfetto. Ok, allora, partiamo. Ho già mandato a Barbara qui in queste slide, quindi non preoccupatevi di poter leggere tutto perché tempo non abbiamo, ma avrete la vostra copia che Barbara ha già ricevuto adesso per posta retropica. 2018, la cronaca cosa ci dice? Addio alle case di riposo, gli anziani passeranno la vecchiaia con gli amici. Si inizia, ma se ne parlava già, ma si inizia a parlare un po' di più nel nostro settore, si narra la proposta della Danimarca, dove il modello è costruito da un villaggio sostanzialmente in cui tutti sono vicini e la vicinanza con gli amici è la proposta vincente, assieme alla condivisione degli spazi comuni. Questo villaggio poi, oltre a questo, propone poi il co-house in cui inculini, anziani ma anche non, studenti che vivono, coabitano nella stessa casa, pagano in comune le spese e si tengono fra loro compagnini. Ma cosa è successo poi nel 2020 che ha fatto arrabbiare molto diversi di noi e in particolare il nostro Bobba va anche su questo. Ha scritto e voleva anche ospitalità più importanti, ma non tutti i giornali sono stati disponibili. Janssen, gerontologo di fama internazionale, scrive su un giornale belga di lingua francese un atto d'accusa ben argomentato, che ovviamente ritroviamo, i punti che lui evidenziava, dice, sono luoghi adatti, le case di riposo a diffondersi delle malattie. Gli anziani non ci vogliono dare, forniscono cure mediche da altri tempi, sono il contrario dei principi della gerontologia, violano i diritti umani, dividono le generazioni, quindi sono ovviamente obsolete e sono sempre di più costose nel tempo. E quindi nel 2020 c'è un'accusa specifica, legata anche ai temi dei cobi, alle case di riposo e a livello europeo sono messe in dubbio. Chiudiamo, le vogliamo proprio chiudere definitivamente le case di riposo. Novità del 2021 è appena uscita, da pochi giorni, questa proposta aperta scritta da chi vedete un gruppo di pensatori legati al forum nazionale della non autosufficienza che dice rispetto al piano governativo nazionale di ripresa e resilienza, visto che è in corso di costruzione noi proponiamo quello che si potrebbe fare per la non autosufficienza. E questi non parlano assolutamente di forme diverse da quelle residenziali o dal domiciliare o d'altro, sono rimasti nell'alveo delle strutture. E cosa dicono? Dicono di proporre al Ministero, e hanno fatto anche un cronoprogramma in questo documento, per cui lo documentano nel 2022-2023, per un miliardo e 75 di euro, la riforma delle strutture residenziali, che sono tutti che conosciamo, dice assicurare spazi adeguati, la privacy, eccetera, favorire gli stakeholder familiari con adeguate relazioni, conciliare sicurezza e libertà di movimento, validano la videosorveglianza come motivo per avere maggiore libertà interna, attività clinico-assistenziale, rafforzare gli strumenti con tutto quello che può essere il controllo clinico a distanza, eccetera, e ridurre quell'adeguare le dimensioni del presidente, non è vecchio neppure questo studio, bisogna intervenire sulle dimensioni eccessive per ricreare delle dimensioni ideali 60-120 di singole residenze che possano. Tutto questo con un piano con supporti finanziati a livello regionale per poter rimettere insieme il sistema. Poi lo stesso gruppo di lavoro dedicherebbe 5 miliardi e mezzo all'attività domiciliare, quindi spinge sul domiciliare, ma in tutto il documento dell'housing o della qualità dell'abitare non se ne parla, però ne parlano i privati. In questo momento esatto c'è in corso questa conferenza che si chiama Senior Housing, diversificazione e diffusione dei modelli residenziali per la Silver Age, intesa in senso economico, ma non ovviamente a vantaggio di noi poveri e anziani, ma a vantaggio di cui questa Silver Age va a gestire. Per cui a livello di prime testimonianze dice che il Senior Housing in tutte le sue declinazioni rappresenta un'opportunità assolutamente fondamentale e strutturale, ma in primis come cambiamento all'approccio economico e socio-sanitario alla terza età. E dice per l'incidenza che avrà in futuro sulla mercato immobiliare. E quindi non stando attenti al fenomeno, la qualità dell'abitare potrebbe essere gestita da altri, cioè da un mondo immobiliare che punta all'economia del Silver Age da questo punto di vista. Io in realtà avrei suggerito e vorrei suggerire agli autori del documento precedente, quello sulla non autosufficienza, che nessuno ha mai fatto uno studio su quanto invece, dal punto di vista economico, potrebbe essere valorizzato con un intervento sulla non autosufficienza che faccia capire al mondo politico quanto a livello di prevenzione si possa risparmiare in costi sanitari, salvaguardando l'autonomia delle persone, eccetera. Se ci fosse un giovane studioso che facesse questo studio e dimostrasse al nostro governo che prevenendo, facendo l'housing, facendo tutta una serie di interventi, possiamo intervenire radicalmente per avere uno sviluppo economico e avere anche dei vantaggi, probabilmente il governo capirebbe meglio. Poi, torniamo avanti, la nostra visione del senior housing si declina in soluzioni abitative in affitto, quindi già definito per persone anziane attive e autonome in grado di valorizzare e combinare socialità, indipendenza e sicurezza. Quindi tutte queste cose di cui noi parliamo nel nostro modo di comprendere questo fenomeno della nostra cultura è già stato ripreso. L'ultima, la simpaticissima Mariù Ciarossini, presidente del gruppo Corian, dice che mai come ora è necessaria una revisione del modello abitativo per gli anziani, aiutati dai nuovi finanziamenti agevolati e dalle nuove organizzazioni regionali che promoveranno nuovi modelli, è giunto il momento di investire i modelli abitativi innovativi. Quindi il privato ci aiuta anche con una premessa che io ho abitato di fare perché noi le cose le conosciamo, ma in premessa di questa conferenza che si sta svolgendo contemporaneamente a noi, ricorda che ci sono già una varietà di declinazioni, ci dà tutti i nomi con i quali queste declinazioni sono già, alcune non le abbiamo conosciute, altre le abbiamo visitate, dice che secondo loro non sono soltanto i numeri a spiegare questa opportunità di introdurre queste nuove forme di abitare, ma tutta una serie di considerazioni anche sociosanitarie, economiche, eccetera, e poi in questo convegno andranno a immaginare forme originali, ma soprattutto cercheranno di capire qual è il business possibile, peraltro questo è un convegno che già ad una successiva edizione perché altre ci sono state prima, quindi come il business rispetto alla qualità dell'abitare possa essere creata. La riflessione che noi abbiamo fatto, quindi noi diciamo io, i colleghi che interverranno dopo di me, quelli che si sono conosciuti, quando abbiamo fatto il viaggio e assieme, eccetera, ci dà alcuni elementi di cui per esempio quello delle relazioni sarà ripreso subito dopo nell'intervento che seguirà. Ovviamente vi dico, vi ho tirato fuori solo le parole chiave, le espressioni chiave, su tre possibili principi della qualità dell'abitare, che sono la rigenerazione urbana sostenibile, cioè dove è possibile, specialmente nei centri storici, eccetera, come per esempio nell'esperienza di previso, cerchiamo di recuperare ciò che è a partire già al patrimonio immobiliare di quel posto. Poi il modello residenziale che deve essere caratterizzato da elementi domestici, della propria casa, dei propri ricordi, dei propri affetti, tessuto urbano, ma magari in prossimità di un centro servizio della persona che possa supportare i servizi quando sono necessari. Nucle abitativi plessibili, nel senso un monolocale che può diventare un bilocale se arriva al nipote a vivere accanto, alloggi indipendenti, imotizzati, funzioni private e collettive, una certa tipologia di dimensioni dove il bilocale è prevalente, comunque l'allocazione, quindi l'affitto, la necessità del giardino o dello spazio esterno, cogliere l'occasione per caratterizzarsi con scelte ecologiche di risparmio energetico e poi trovare la condivisione di attrezzature eccetera all'interno che vengono condivise degli abitanti, spazi comuni per il vai da te, ma anche capire che siamo in un momento che non c'è ancora una legislazione ovunque a livello regionale, potrebbero arrivare normative stringenti, dobbiamo per tempo capire quali sono le forme giuridiche che possono tutelare questo modello della qualità dell'abitare al di là del contratto d'affitto e che diventino di loro uno strumento attuativo. A livello relazionale, ne parleranno dopo di me, quindi molto velocemente, cioè il fatto che la nostra qualità dell'abitare vuol dire creare anche dei luoghi di aggregazione e socializzazione aperti alla comunità locale ma anche polo di attrazione per il territorio e quindi coniugare indipendenze e privacy rispetto agli spazi che sono spazi aperti alla socialità. Trovare delle modalità di partecipazione all'interno di questi luoghi, come peraltro penso Giorgio ci potrà raccontare dell'esperienza di Treviso. Sperimentare la definizione che poi ritroveremo anche più avanti, senior co housing, che vuol dire che non è solo segno ma è una potenzialità aperta a tutti. L'ipotesi di creare un marchio di qualità su questo che mentre noi ci pensavamo e scrivevamo Faber e quindi Treviso ci ha già anticipato con l'ultimo incontro in cui ci ha spiegato che grazie all'Università delle Marche e con la ricerca all'uoco su questo si è già creato un modello, un marchio di qualità che caratterizza alcune realizzazioni ma anche potenziali realizzazioni in progetto secondo un modello dei criteri che sono stati ovviamente da tempo condivisi in un percorso di studio e ricerca e questo ovviamente garantirebbe molto per il futuro di questa esperienza. E poi il sentirsi parte della comunità, un contesto che comunque prevede anche l'attenzione da curato e altre cose che sicuramente dopo di me saranno meglio gli altri a spiegare. E poi il terzo elemento, avere servizi di supporto vicini, avere la capacità di mettere in gioco anche dopo una certa età, proprio saper fare a livello di laboratori, a livello semplicemente delle prende sicure di altri, della manutenzione degli spazi in cui ci sono. Le persone che da portatori di bisogno diventano promotori di soluzioni rispetto agli spazi che sono loro, lavorare sulla privacy, trovare la modalità di supporto su quelle che sono esigenze che vengono espresse ovviamente non su tutto ma su quello che viene richiesto, favorire la longevità attiva immaginando progetti che la garantiscono, far condividere gli hobby eccetera, un brevissimo aneddoto. Siamo stati a Trieste quando negli anni scorsi studiavamo questo fenomeno, Trieste tra quelli che conoscevamo oltre noi vi sono uno dei primi e quando sono stati a visitare uno di questi alloggi in particolare c'era un signore infastidito, molto seccato, quindi quando sono entrato in delegazione ci ha guardato male e ha cominciato a dire io voglio darvi una forte, una forte, forte lamentena perché guardate e andiamo di là e ci aveva praticamente flight simulator su tre schermi e diceva che la connessione wifi del sistema offerto dal co-housing non era sufficiente a supportare in maniera decente il suo gioco e quindi questa era un'esigenza di uno degli antiani, disabili, inabili eccetera che abitavano in quel contesto e chiaramente si valorizzano seguendo anche i suoi hobby. E poi sono delle figure nuove a livello di facilitatori all'interno anche delle esperienze storiche che hanno caratterizzato chi su questo vissuto ma di quella che si parla è quella del gestore sociale che dovrebbe un po' essere a guardia ma soprattutto a supporto di questi soldi di condominio. Vi propongo in chiusura Trave e Sol perché siamo andati a vederlo due anni fa ed è la realizzazione di un sogno in un progetto cooperativo. Questo è tutto autogestito dall'individuazione dei finanziamenti al pagamento del progettista alla realizzazione dei lavori e oggi con tutta una serie di regole anche alla gestione complessiva di questa iniziativa che è vicino a Madrid, pionieri in Spagna insieme a un'altra che era vicina a Malaga ed è quello che loro definiscono, queste sono proprio le loro parole, alloggio collaborativo che nasce dal presupposto che io desidero, voglio realizzare questo progetto con persone con cui lavoreremo assieme fino alla fine. E quindi i valori che hanno nello statuto sono solidarietà, cooperazione, aiuto reciproco e spirito di accoglienza. Hanno fatto un percorso persone che nel periodo del generale Franco condividevano alcuni valori e a un certo punto hanno detto realizziamo la nostra vecchiaia e hanno creato una cooperativa senza scopo di lucro che ha creato tutto, è autogestita democraticamente attraverso un consiglio direttivo, ci tengono morto il fatto che l'Associazione Generale sia l'organo supremo di espressione della volontà sociale e temi come la partecipazione vengono gestite in termini di commissioni di lavoro che vanno a gestire tutto, dal consumo all'economia eccetera. La proprietà è della cooperativa e si entra nei propri appartamenti con accessione ad uso vitalizio. Tra ben soldi c'è la nostra esperienza e quella di Malaga manca ancora di un aspetto importante, cioè il pieno riconoscimento giuridico e l'accreditamento per poter essere noi stessi i fornitori di servizi sociosanitari alle persone che stanno con noi. E quindi è un'evoluzione, la vediamo in breve, è stato realizzato tutti con principi ecologici, con la geotermia, con un architetto pagato e seguito da un gruppo di lavoro degli interessati. Vedete che ogni singola unità, ma si possono unire fra di loro, ha questi spazi abitativi, il salottino, la cucina e tutti poi danno sul giardino, sui comuni, è limitato ad un piano all'altezza e sono 80 di questi nuclei, dove hanno deciso assieme in assemblea che il pranzo è il momento comune, dove ci si ritrova, si chiacchia, eccetera, colazione, la cena e tutto il resto è autonomo, uno può andare a fare quello che vuole, però la regola è troviamoci a pranzo e a pranzo ci sediamo anche in tavoli diversi perché è il momento comunitario per eccellenza, perché mangiando facciamo mettere in risalto ciò di cui vorremmo parlare. E poi hanno l'autogestione anche per quanto riguarda, per esempio, vedete tutta la parte delle coltivazioni, eccetera, ed è un'esperienza che ci è piaciuta molto, l'architettura è bioclimatica, l'energia è geotermica in assoluto e fornisce una temperatura costante sia per l'inverno che per l'estate abbiamo visto. Questo è uno dei pati, dell'impatio, uno delle luoghe di incontro all'esterno. Cosa, e andiamo a chiudere, cosa hanno poi chiesto e cosa chiedono al governo per capirsi, per poi entrare nel merito delle cose che discuteremo, dicono che vogliono una legislazione che ponga le basi del co-housing sempre. E vedete che la stessa cosa la fanno i privati in convegno oggi, nel senso che ci manca un quadro. È anche vero che a mancanza di un quadro, per fortuna del signore, possiamo ancora fare quello che vogliamo, perché potrebbe essere che poi un quadro normativo discrimini e restringa le opportunità. Ma loro chiedono un'esterno che soprattutto ponga le condizioni per lo sviluppo e riconoscimento del signore housing, quindi del valore, quindi la promozione dell'invento legamento attivo, della solidarietà intergenerazionale e l'inclusione di questo modello, al contrario di quello che non hanno fatto quelli del network, non autosufficienza, nel documento che vi ho presentato prima, è includere il co-housing senior nella sviluppo di quella che è spagnola la legge sulla dipendenza, la nostra sarebbe la normativa sulla tutela e cura della non autosufficienza, in modo che anche il co-housing, a livello di prevenzione, autonomia, le cose che non vedono, possa essere integrato nel sistema socioassistenziale, in questo caso spagnolo. E poi tutto quello che riguarda quella fiscalità, la normativa, eccetera, ma chiude dicendo e condivide, per questo l'ho messo, il co-housing potente è un sistema di condizioni penenziali che permette di loro di vivere in maturità, con vitalità e lontano dalla solitudine, con indipendenza e autonomia, senza rappresentare un mondo economico per nessuno. E la cosa più carina, due cose più carine sono loro entrano in una struttura in cui ci sono dei dipendenti che sono i loro dipendenti, che è già una cosa diversa. E il livello participativo è su gruppi di interesse di qualunque cosa e hanno anche voluto che tutte le risorse disponibili all'interno, quindi anche professioni sanitarie, siano messe in gioco. Quando abbiamo fatto la visita, visita chi ci accompagnava, che era un ex giornalista che si occupa della comunicazione, quindi le sono sottimizzate, ci ha portato tutto il fastidito davanti alla porta di una parruccheria e dice guardate abbiamo una parruccheria nuova, siamo in 100, 120, che ci fosse uno che sa tagliare i capelli. E quindi è l'unica spesa che abbiamo cercato di far perdere un parrucchiano per noi. Quindi, senza tediarmi oltre, chiudo con Confucio, che mi pare possa andare bene, perché riassume un po' quello che volesse il nostro spirito, una casa anche piccola, un bilocale, eccetera, ma con finestre che si aprono sul mondo infinito. Quindi non è una cosa che ci chiude o ci racchiude, ma è una cosa aperta in termini di socialità, di convivenza, le cose che abbiamo detto, con tutto il mondo esterno. Grazie. Mario, ti porto via la parola un istante. Vai tranquillo, Giorgio, ho anche una considerazione perché Franco è stato, ha fatto una disanima che mi è piaciuta, volevo anche io aggiungere. No, 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 volevo solo dare un'informazione a Franco e a tutti. E il 24, dalle 15 alle 18, abbiamo spostato il benfare dell'anno scorso, che di solito si tiene verso fine anno in ottobre. E tratteremo proprio quell'argomento del documento che il network della non autosufficienza ha redatto. Quindi lì ci sarà l'occasione per dare tutti gli spunti, i miglioramenti che vorremmo dare. tutti quanti. Quindi Franco ha fatto bene a citarlo perché proprio il 24 febbraio alle 15, adesso vi arriverà tutto, possiamo proprio dire, e ne parleremo proprio con ovviamente Cristiano Gori, che è il principale, insomma, è quello che ha fondato, insomma, il netto. Ma poi anche con Guaita, con il professor Guaita e il professor Trabucchi. Quindi credo che sarà un'occasione di otta, devo dire, per le cose che ha detto Franco prima. Scusate l'inserimento. No, no, per quello, correttissimo. Franco, una disanima sempre precisa e perfetta, come sei una garanzia. Mi è piaciuto che hai trovato qualcuno che è più pessimista di me sul futuro. Il Giaviatra che aveva messo per nove punti il motivo per cui dobbiamo rivedere le strutture residenziali franziali in mani versi di Ticottina. Mentre parlavi mi sono permesso di prendere la calcolatrice. Sulla proposta di Gori e Trabucchi ho visto un 1,75 miliardi che lo Stato dovrebbe sborsare per il progetto, ma non credo che bastino. Mi pare un budget insufficiente per ripensare i servizi. L'ultimo esempio che hai portato è quello della cooperativa autogestita e illuminante, dove è assente un servizio, sono riusciti a organizzarsi nei liberi privati e ad anticipare a fare innovazione. Ottimo. Non ero perso quello della Spagna, di tra mensoli. E anche mi è piaciuto il tuo augurio, nel senso che forse la mancanza del quadro normativo potrebbe farci comodo, nel senso che nel momento stesso in cui entra un quadro normativo ecco che diventa ancora più difficile fare una proposta, un'offerta, un'evoluzione, un'innovazione perché il quadro normativo ci mette i paletti, ci vincola e ci impedisce. Ok, fantastico. Adesso lascio la parola alla Silvia De Rizzo. Eccomi. Grazie a Davide Zonaro che insieme ci racconteranno il terzo luogo a voi. Grazie, salve a tutti. Grazie Franco per l'introduzione. Da molti anni parliamo di qualità dell'abitare. Ci siamo confrontati molte volte. Sui principi non possiamo che essere d'accordo. Possono evolvere poi anche rispetto a quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo adesso. Rimane però pensare alla concretezza, nel senso che noi siamo chiamati endemicamente ad evolvere ma ad evolvere sostenibilmente a maggior ragione perché a breve, anzi, siamo immersi in pieno in una crisi da cui non so come usciremo. Quindi io sono sempre anche un po' scettica sul fare il conto sui grandi finanziamenti, grandi investimenti. Volevo raccontarvi una storia di concretezza, anche di fortuna se volete, ma di identità, sostenibilità dove un po' i valori che sono stati descritti e che sicuramente noi di questa comunità condividiamo possono trovare comunque soddisfazione. Allora, nella struttura dove ero direttore prima, la fondazione Zerbato di Treniago, dove appunto ho lavorato con Davide, con il consiglio di amministrazione, con il gruppo di lavoro, si è investito molto su un ragionamento di filiera in modo che il concetto è naturalmente affezionare la persona, la persona quindi non l'anziano, dove l'anziano siamo noi, dalla prima problematica della terza età fino alla fine offrendo una gamma di servizi. Ci siamo interrogati, siamo arrivati a definire la necessità di un ampliamento della nostra struttura, quindi abbiamo interpellato un architetto per uno studio di fattibilità che ci ha presentato in via preliminare un progetto faraonico anche interessante con appunto dei costi di investimento notevoli e anche di gestione. Il 14 marzo del 2019 il consiglio era convocato per l'approvazione del progetto e per l'incarico nel proseguimento del lavoro. Il giorno 12, due giorni prima, scopro che nel paese di Treniago che ha 5.000 abitanti esiste una struttura residenziale in vendita. Era una struttura religiosa delle suore poste in centro al paese, costruita nel 1915, ristrutturata negli anni 80 che io avevo sempre visto passando ma sapevo che era una struttura religiosa appunto e basta. Da lì siamo corsi a vederla proprio il 14 mattina, siamo rimasti folgorati dalla struttura e in un secondo abbiamo capito che costruire non si doveva fare. Adesso io uso termini un po' esagerati ma era quello che ho provato in quel momento. Terzo luogo perché? Ma noi siamo convinti che ci debba essere sempre contraposizione tra innovazione e tradizione, cioè costruiamo, modifichiamo e soprattutto in termini di crisi economica. Quanto ci possiamo permettere ancora di cementificare? Quanto ci possiamo permettere ancora di fare delle cose nuove pur supportate da evidenze scientifiche, da convinzioni molto radicate. Quindi da lì naturalmente proseguendo nella storia abbiamo cercato e ho cercato personalmente ma anche con l'aiuto di chi era convinto di cercare di arrivare ad acquisire questo edificio prima che fosse dato il mandato della costruzione del nuovo. Puntando su degli item molto forti, in primis l'eliminazione della concorrenza e cioè evitare che a 300 metri dal centro servizi per la non autosufficienza arrivasse qualcuno a occupare un edificio prestigioso. Puntando sul valore del patrimonio architettonico del paese e il suo significato urbanistico e quindi la valorizzazione di un edificio vecchio e l'eliminazione di una cementificazione eccessiva e da lì abbiamo fatto un passetto avanti cercando di portare come come visione la trasformazione del paese in un paese senior friendly con una serie di servizi attorno a alle nostre strutture in un futuro demografico evidente e da lì poi abbiamo puntato molto a far capire ai nostri interlocutori come il nostro centro che è un'azienda potesse avere un valore di bene collettivo che va oltre il servizio alla terza età perché non è solo quello. Giustamente Franco parlava di qualità del lavorare fino a quando in paesi piccoli, decentrati, potremmo avere persone che da fuori vengono lì. Ci deve essere una motivazione oppure uno sforzo nel valorizzare le risorse del territorio e quindi abbiamo lavorato moltissimo su questo, sull'azienda come bene collettivo oltre il servizio alla mera terza età e questo è un aspetto molto importante. da lì una volta firmato il contratto preliminare è stato tutto molto come immaginate veloce ma a volte la velocità colpisce e dà dei risultati insomma se l'intuizione è buona non serve pensarci molto e abbiamo lavorato su poi concretamente come riempire la struttura, cosa fare di quella struttura, quali bisogni aveva il territorio e lì ci siamo resi conto che una chiave importantissima è l'identità, il modello che io propongo in un paesino piccolo, quello che propongo a Valdagno, quello che propongo a Treviso potrebbe essere molto diverso anche se i valori retrostanti sono i medesimi e quindi ci siamo proprio interrogati sull'origine e il significato che quell'edificio vecchio aveva. Era un edificio dove la popolazione del territorio e della valle quindi parliamo della Lessinia aveva fatto l'asilo e la scuola molte volte, corsi di formazione professionale, la sarta, il falegname quindi era un edificio molto riconoscibile che ispirava di per se stesso fiducia. Da lì poi abbiamo lavorato per cercare di affinare ancora di più il progetto e di sulla base anche della della conformità capire che tipo di persone potevamo in in quel edificio accogliere nel ragionamento della filiera, nel ragionamento della sostenibilità eh assoluta e eh della eh valorizzazione del lavoro e della valorizzazione urbanistica. Eh terzo luogo è una un'accezione che è venuta fuori durante il viaggio che abbiamo fatto eh all'interno di un van uno dei trasferimenti eh terzo luogo ha molte accezioni eh non è alternativo a nulla però è un qualcosa di diverso ha un'accezione aperta eh ha un'accezione eh nuova e eh diciamo che però quella che più eh si avvicina all'idea è che questo terzo luogo sia un terzo luogo alternativo alla casa e alla struttura residenziale ma riconoscibile da chi ci va ehm ad abitare riconoscibile eh per le persone che ci sono dentro io vado ad abitare abito più volentieri con chi è uguale a me con chi parla magari il mio stesso dialetto con chi ha fatto un percorso di vita simile e quindi eh questo era un po' eh l'idea su cui ci siamo mossi su cui poi è stato dato anche un incarico a uno studio di architetti del luogo per una ristrutturazione eh una ristrutturazione specifico molto più sostenibile rispetto alla nuova costruzione ecco questo è chiaro io parto dal concetto dal concetto di sostenibilità perché devo lavorare così dobbiamo lavorare così volipindarici sì però è la concretezza quello che siamo chiamati oggi e nei prossimi anni a a a valutare ehm ecco la figura del sociologo era un perno e poi Davide spiegherà perché in questo eh progetto molto ambizioso eh sempre all'interno del van eh ci siamo interrogati sul sul nome da dare perché anche il nome è molto importante in un poi un'operazione di marketing eh a largo raggio casa residenza villa dimora eh poi siamo arrivati al concetto di corte perché la corte è un luogo eh più tipico rispetto alle zone eh valigiane alla fine siamo arrivati alla contra e quindi su questo lascerei la parola a Davide ecco io vi ho fatto un po' eh la il la il la vicenda di come si è svolta perché a volte il destino ci fa passare avanti delle cose noi magari non non riusciamo bene a capirlo però le antenne dobbiamo tenerle alzate perché ripeto secondo me tra innovazione e tradizione non c'è una contrapposizione ma eh deve esserci una sintesi soprattutto in questi anni e grazie Silvia perché allora contra e tanto in Veneto specie eh nella zona delle prealpi indica indica semplicemente un gruppetto di case no è molto corrispondente a volte con con la frazione è è un nucleo distante di case e un po' distante appunto dall'abitato principale talvolta scluviste numero civico e rispecca quel concetto un po' di definito ma aperto confinato ma non chiuso e in cui a volte appunto si parla la stessa lingua il stesso dialetto in cui si hanno le stesse usanze si abita insieme in uno spazio circoscritto e ecco allora che eh attraverso un lavoro preliminare di assistenti sociali ma anche di medici di medicina generale e il servizio domiciliare perché no con l'ADI eh che attualmente eh serve questi paesi abbiamo pensato di raccogliere delle evidenze no che confermassero l'esigenza degli anziani della signa che noi abbiamo intuito avere per dare dei risposti ai delle risposte ai bisogni di salute ma anche e soprattutto di contrasto alla solitudine perché dobbiamo anche fare quello e all'isolamento sociale creando cercando pensando di ricreare per loro un luogo della della tradizione nel quale possono continuare a a rivivere le proprie abitudini e soprattutto continuare a vivere eh ci siamo anche chiesti eh ma l'anziano che abita lì sarebbe disposto eh che vive nelle contrà ormai che sono spopolati si tratta di una zona molto depressa zona prealpina in cui non c'è turismo in cui eh grande grande spazio è dedicato ai ai pascoli eh sarebbe disposto questa popolazione questi anziani a a spostarsi dalla propria casa e come vi permette questo passaggio no eh perché sia più facile possibile eh tutto questo fra l'altro queste risposte avrebbero corrispondenza quando ci lavora in una fondazione bisognerebbe anche chiedersi queste cose eh ecco ecco allora che tutto sommato la riscossa di una zona geografica che ho detto così depressa che vive un momento anche anche difficile eh come la Lissinia che è luogo della casa eh potrebbe iniziare eh o riprendere vita proprio da dove meglio ci si aspetta eh ma da chi invece l'ha abitata vissuta questa vita proprio le persone anziane perché una zona geografica come una frazione un paese una contraria dal punto di vista politico non è solo un luogo dove si vive oppure oppure da amministrare no ma grazie alle persone che ci vivono e anche spine di tradizioni di credenze di stili di vita di memorie patrimonio di cultura ricordi e modi di fare e queste cose rischiano veramente di essere perse e a causa di fattori sociali ma anche di scelte economiche o anche politiche no e scompaiono lentamente e misurabilmente una risposta allora potrebbe essere quella di creare un ambiente riconoscibile come quello della Contra in questo caso no e come quello della Lissina dove vivono queste persone e quindi fare quelle modifiche che richiamino un pochino di materiali colori le forme tipiche del territorio quindi usare la pietra il legno il sasso e il marrone della pietra del legno il brillo delle montagne il verde dei pascoli dove queste persone vivevano all'interno della casa degli spazi specifici per rivivere le tradizioni del luogo e ad esempio faccio un esempio chimite ma perché queste persone sono molto legate alla cultura contadina no e la cultura contadina la montagna alla semplicità alla cucina tipica all'artigianato al vino in generale e perché non ci può essere all'interno della casa un piccolo spazio dove si può assaggiare del vino una piccola cantinetta un piccolo spazio dove si può condividere e assaggiare il vino del luogo magari anche oppure conservarlo un tipo di scelta come questa in un tipo di scelta come questa è importante che il servizio si integri col territorio quindi no ecco allora che come i servizi interni potrebbero essere pensati un pochino in modo diverso da quelli classici e magari le persone non dovrebbero per forza usufruire di tutti i servizi internamente non potrebbero essere accompagnati all'esterno il paese è un paese piccolo per andare dalla parrucchiera piuttosto che a messa prendersi giornale semplicemente in pasticceria a bere un caffè e quindi integrarsi si dovrebbero creare quindi nuove convenzioni con esercenti i servizi del paese che forse non aspettano altro creare una comunità residenziale aiutando di un paese che già già esistente che non che non lo contrasti probabilmente che si integri e bisognerebbe rendere i percorsi urbanistici più fruibili possibili come ha detto silvia ma questo lo vedo molto semplice in un paese che che non è una città che urbanisticamente è semplice c'è una piazza c'è la chiesa e ci sono i negozi attorno e rendere le bisognerebbe rendere lo scambio economico agevole agli anziani non dico niente di nuovo credo pensando a delle tessere delle convenzioni creare un'integrazione insomma vantaggiosa non solo per la comunità che verrebbe a viverci ma anche per la comunità che lo ospita un altro capitolo secondo me è chi si lavora dentro allora l'os sappiamo è una figura in crisi per tanti motivi però ho partecipato al tavolo regionale della della formazione della nuova formazione e non ci sono dei buonissimi input nessuna grande novità che arriva da questa da questo tavolo e allora proviamo a pensare non creare non pensare a nuove professionalità e vado un po controcorrente dal dal periodo no e una professionalità meno sanitaria più centrata sull'accompagnamento su stare vicino sulla qualità di vita sullo stare bene dove ci vive perché se io interrogo molti operatori sanitario sociosanitari un pochettino vorrebbero fare questo tipo di lavoro e che sia integrata con le altre figure che attualmente girano e intorno all'anziano però che si approcciano in modo un po diverso e chi potrebbe essere abbiamo visto nelle nella l'esperienza che abbiamo fatto il nord europa non supporter per esempio no qua manca potrebbe essere potrebbero potrebbe essere rappresentato da qui da quelle badanti che ci sono appunto delle contrarie che stanno vivendo con gli anziani e da studenti part time da le figure che si vogliono riqualificare però non vogliono fare un percorso chissà quale da chi ha del tempo da dedicare per stare con è una figura naturalmente sarebbe una figura nuova da definire profilare l'economizzare formale perché però ci potrebbe cominciare a pensare perché sarebbe un altro modo di star vicino e come sentite insomma tanta carne al fuoco tante idee o meglio insomma mi piace tanto legno da intagliare il pietro da scompire processi però dietro come diceva silvia di trasformazione di nuova creazione di rivalutazione e da la lissina prende una delle tecnologie di lissina prende il nome d'alissia potrebbe pensare che in veneto in diretto veneto è una specie di detersivo che si creava dalla cenere mescolandola con l'acqua e poi conservata ecco questo modo di ragionare si sta un po perdendo dalla dalla cenere del legno ce n'è in abbondanza in questa regione e in questa zona si faceva si usava per fare dell'altro e ci riqualificava insomma per fare dell'altro e e gli anziani che abbiamo in struttura incontro mi raccontano di queste cose ok mi chiedo e mi domando che fine questa cultura che fine farà ok se non cominciamo a pensare di costruire oltre che la persona fisica anche quello che c'è oltre dobbiamo pensare è vero in questo periodo per carità ok la salute fisica va pensata vanno pensati nuovi servizi vanno pensati va ripensata la filiera vanno pensati gli investimenti e anche va riqualificata forse la parte sanitaria che si occupa dell'anziano però va pensata anche che l'anziano non è solo il corpo che abita e la cultura che rappresenta la vita che ha vissuto e quello che si porta dietro che si porta via quando poi ecco se posso se posso integrare non solo per gli anziani da adesso ma anche per noi ecco quindi quello che noi vorremmo comunque essere valorizzati ecco andando con un pensiero un po più un po più ampio noi quando accogliamo i nostri anziani mica li ricreiamo da nuovi e cioè siamo chiamati a valorizzare quello che c'è e quindi perché non estendere questo pensiero anche nella qualità dell'abitare di valorizzare quello che già c'è perché non possiamo permetterci moltissimo negli anni a venire ecco questo era un po il pensiero che ci stava dietro e che poteva poteva dare anche un senso a questa operazione quindi l'interrogativo ma siamo sicuri che il nuovo sia la soluzione o forse è meglio visti gli anni che ci troviamo a vivere e il fatto che tra poco saremo noi a usufruire di questi servizi non puntiamo a una valorizzazione che potrebbe essere anche più sostenibile ecco questo era un po il messaggio e la riflessione che è integrata anche con l'esperienza dell'emergenza sanitaria perché abbiamo capito anche che come ci dicevamo prima con con Davide le nostre residenze sono tutto in questo momento sono per il disagio sociale per la situazione sanitaria grave per il morente per il demente siamo tutto 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 ecco anche questo è un punto di riflessione importante che l'esperienza ci ha fatto vivere è un altro punto fondamentale appunto la qualità del lavoro che non non dobbiamo mai dimenticare ecco corretto benissimo Silvia sei stata chiarissima mi è piaciuto moltissimo quello che avete detto perché avete puntato su questo progetto in questo idea sul concetto di sostenibilità concetto di sostenibilità che è un concetto che va ragionato in termini molto ampi come ci avete spiegato e eliminato che non è solo una sostenibilità economica ma è anche una sostenibilità sociale e l'idea del riuso degli spazi degli ambienti del territori del territorio è chiaramente un una opzione da prendere in considerazione per prima che non della nuova cementificazione visto che la cementificazione è uno dei nostri fragelli e lo vediamo con il cambiamento climatico mi è piaciuto il termine che territorio senior friendly effettivamente dovremmo ragionare in termini di istruzione al territorio di modifica del territorio per renderlo senior friendly Davide io sono stato sudate le tue parti ma il posto è bellissimo anche perché hai ciliegie vigne non sembra che soprattutto vigne sì sì ma io ho mangiato le ciliegie su delle tue parti ed erano le più grandi e le più buone e quindi in realtà il territorio che hai lì intorno offre veramente uno spettacolo incredibile ok a questo punto passo la parola all'architetto e amico Gianluca d'Arvo dell'università differenze che da tempo lavora in termini di ricerca e innovazione degli spazi dell'abitare per le persone anziane ciao Mario buonasera a tutti concordo che gli interventi precedenti sono stati ricchissimi di spunti tantissimo ricchi di spunti e volevo fare un po' una riflessione in modo più che altro da passare la parola dopo le esperienze concrete degli interventi successivi facendo un po' una riflessione per quanto mi riguarda letta sotto l'aspetto tecnico io sono signor ricercatore ma sono anche un architetto quindi un tecnico mi è piaciuto molto il collegamento che ha fatto la dottoressa De Rizzo tra l'innovazione e la tradizione cioè come poter legare e mantenere molto solida questo dualismo soprattutto in un territorio come l'Italia che viviamo e continuiamo a vivere di tradizioni di innumerevoli tradizioni e se vediamo anche a livello regionale c'è una vastissima differenziazione di comunità e di tradizioni locali e questo se guarda caso si ripercuote ripercuote anche su tutti i modelli di housing che sono presenti anche in Italia non solo all'estero anche in Italia se andiamo a vedere in ogni singolo territorio regionale ci sono diversissime realtà di housing dalle tradizionali case di riposo alle residenze sanitarie agli alberghi diffusi agli alloggi protetti e quindi ogni regione in qualche modo ha cercato di dare risposta a questa continua esigenza di dare risposta appunto alle mutevoli esigenze dell'anziano oggi che sia passatemi il termine anche se non mi piace istituzionalizzato o meno quindi come possiamo leggere per rifare un'ulteriore riflessione per collegarsi agli interventi sicuramente successivi che lo ripercorranno questi concetti secondo queste tematiche sicuramente l'accessibilità abbiamo una grossa problematica di accessibilità ai servizi abbiamo modelli di housing sintetizzando abbiamo le nostre case di riposo che sono tra virgolette bloccate su se stesse perché hanno sempre difficoltà di legarsi alla comunità noi tecnici come lo possiamo fare questo? sicuramente creando spazi semipubblici quindi aprendo fisicamente le strutture al territorio ma possiamo farlo anche attraverso l'apertura dei servizi mi sono appuntato ad esempio il passaggio successivo cioè di fare dei servizi accompagnati all'esterno cioè o banalizzando io ho il bar all'interno della struttura che viene utilizzato dagli ospiti e dagli operatori ma posso anche avere un bar della struttura che è aperto alla comunità esterna o posso avere il bar della piazza verso la quale io struttura vado verso la comunità esterna quindi questi gradi di relazione che posso generare sono secondo me la chiave di lettura di questa innovazione che in qualche modo vuole tutelare la tradizione cioè avere la tradizione di prendere il caffè che è tutta italiana con un'innovazione di servizi che deve legarsi alle nuove esigenze dell'anziano che come anche ricordava la dottoressa Derizzo stiamo diventando noi nuovi anziani cioè l'anziano di dieci anni fa è molto molto diverso dall'anziano di oggi l'anziano di oggi si collega facilmente ad internet si informa facilmente ha un'accessibilità all'informatica molto più rapida e veloce e accessibile rispetto a un suo amico di dieci anni fa insomma all'interno delle strutture un'altra tematica sicuramente legata all'innovazione è sicuramente la multigenerazionalità cioè come possiamo in questi modelli di housing relazionarsi con la comunità esterna e quindi non solo con i servizi ma anche con la comunità fisica proprio con le altre persone e questo è strettamente collegato al concetto di domotica perché è bastato vedere come tra virgolette siamo andati anzi non tra virgolette siamo andati in crisi con le relazioni fisiche e anche non fisiche durante la pandemia che ancora ad oggi stiamo vivendo e le strutture non sapendo dare una risposta a questo si sono necessariamente dovute chiudere su se stesse ma qual è stata la risposta? La risposta è stata fisica e sintetizzando la cosiddetta stanza degli abbracci ad esempio oppure in corso d'opera ci sono state innovazioni tipologiche delle strutture che si stanno costruendo adesso per capire quali possono essere le dinamiche di flessibilità spaziale per andare incontro a questa criticità cioè ovvero relazionarsi fisicamente con le persone esternamente alla struttura ma anche ad esempio ci siamo dimenticati come potenzialmente ad oggi con un semplice telefono possiamo accedere a qualsiasi genere di servizio eppure nelle prime fasi della pandemia le strutture, soprattutto residenziali hanno avuto un'estrema difficoltà a comunicare anche con il semplice familiare all'esterno ci sono state persone che conosco anche io personalmente che per settimane non sono riusciti a parlare né a vedere neanche attraverso un telefono il proprio caro vuoi perché comunque sia è stata una situazione complicatissima per tutti sia per gli operatori che vivono che l'hanno vissuta anche loro in prima battuta però questo ci fa capire quanto da una parte siamo ormai frastornati da modelli di housing cioè ormai ricerche su ricerche sono state fatte con i pro e contro di ogni modello di housing dall'altra abbiamo sistemi di network quindi di servizi ormai avanzatissimi e quindi continuo forse a insistere anche in altre occasioni che abbiamo avuto insieme la vera difficoltà è relazionare queste due cose cioè continua ad essere questa perché da una parte abbiamo un telefono basta scaricare un'app dove se io anche stasera a Firenze voglio andare a fare delle visite a un museo ci sono per categorie di attività o per categorie di persone che voglio frequentare riesco in un quarto d'ora a creare un gruppo per andare a visitare un museo stasera anche se non le conosco per niente perché questi sistemi immediati che quindi basterebbe un solo telefono non vengono infatti trasferiti per quanto riguarda la messa in sistema ad esempio delle strutture sanitarie o degli appartamenti protetti o qualsiasi modello di housing sia e allo stesso tempo perché l'innovazione tecnologica di altri campi non viene in maniera prepotente inserita all'interno della tematica anziano cioè io sono sempre più convinto che ci sono le capacità ci sono gli esperti abbiamo già le risposte ma dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme multidisciplinare per cercare di capire qual è la strada più rapida e sostenibile per poter portare l'innovazione all'interno dei sistemi sanitari e non che riguardano l'anziano perché a livello tecnologico le soluzioni ci sono ci sono la difficoltà enorme è capire con quali modalità inserirle all'interno dei vari contesti territoriali e comunitari che ci sono già altrimenti si rischia sempre di dover cercare sempre nuovi modelli di housing quando in realtà i modelli di housing ci sono vanno perfezionati rispetto a quest'innovazione che inevitabilmente c'è innovazione dovuta anche all'evoluzione diciamo culturale dell'ospite che è all'interno dei sistemi di housing che siano appunto sanitarie o non proprio per legarsi al fatto che l'anziano d'oggi non è l'anziano di dieci anni fa è una persona che è capace di utilizzare tranquillamente il proprio tablet il proprio telefono ora al di là dell'autosufficienza o meno che possa avere però ci sono ormai sistemi banalissimi cioè basta basta pensare che nel giro di un anno e mezzo due creare una casa domotica basta basta spendere 200 euro con un kit comprato su internet e sullo stesso appartamento con lo stesso impianto elettrico si domotizza una casa ma bastano 200 euro oggi rispetto già a due anni fa che ce ne volevano 15.000 quindi l'innovazione tecnologica va avanti e possiamo tranquillamente introdurla all'interno delle strutture sanitarie la risposta che c'è stata ad esempio nei sistemi sanitari per quanto riguarda la comunicazione con l'esterno durante la pandemia c'è chi banalmente ha fatto un'analisi economica dicendo mi conviene comprare uno smartphone a tutti gli ospiti perché con questo mi risolvo x milioni di problemi e riesco immediatamente a far comunicare all'esterno le persone o chi ha invece investito su spazi specifici all'interno di comunicazione con l'esterno e così via c'è l'innovazione e lo spirito di dare risposta alle esigenze noi italiani siamo maestri a livello mondiale l'unico problema secondo me rimane sempre quello che siccome ci sono estreme differenziazioni regionali dovute anche all'aspetto normativo ci sono regioni molto più normate altre meno normate altre alcune ad esempio se vi parlo riguardo gli spazi ci sono alcune regioni che hanno preso una strada ben precisa ovvero di vincolare sempre meno la dotazione di requisiti strutturali e spaziali ad esempio delle strutture che questo non vuol dire fare un passo indietro vuol dire fare un passo in avanti perché lascia spazio all'innovazione tipologica e tecnologica delle strutture perché oggi come oggi progettare una struttura o adeguare una struttura di esistenza non è e ormai è lontano anni luce del dover dire la camera doppia deve essere 18 metri quadrati la singola 14 ci deve essere l'infermeria cioè ormai anche gli stessi gli stessi gli stessi spazi le stesse strutture devono poter accogliere come diceva anche prima il dottor Zenaro nuove tipologie di figure professionali e a queste nuove tipologie di figure professionali devono essere in automatico associate nuove tipologie di spazi basta parlare solo alla parrucchieria il podologo gli anziani di oggi vogliono anche la sala giochi magari all'interno della casa riposo o all'interno del condominio solidale come ad esempio esperienze ci sono anche qui a Firenze abbiamo il soggiorno di condominio dove vengono fatte le attività quindi anche l'innovazione ripeto tipologica e tecnologica ne abbiamo ormai decine di soluzioni mi piacerebbe confrontarci insomma con poi il relatore e tutto come anche dal punto di vista loro qual è poi la difficoltà nel trasferire l'innovazione tecnologica anche di altri sottori nei propri contesti o quale o quale difficoltà hanno avuto nel trasferirla cioè solo un problema tra virgolette burocratico o normativo o ci sono altri tipi di problematiche questo sarebbe interessante fare un tavolo un tavolo multidisciplinare per mettere sul sul piatto tutte queste tematiche e vedere dal punto di vista tecnico medico gestionale eccetera eccetera quali sono i pro e contro per poter trovare la modalità di inserire l'innovazione tecnologica e quindi dei sistemi di network all'interno di qualsiasi modello di housing adesso esistente il vero punto la lettura chiave la risposta di innovazione va data con questa chiave di lettura cioè qual è la chiave per aprire l'inserimento di questa innovazione in sistemi e modelli che secondo me sono già sviscerati ormai a livello parlo di spazi sono già sviscerati a livello di internazionale e qui mi fermo lascio un po' la parola a voi vi ringrazio grazie Gianluca sì in effetti sono d'accordo con te anche all'interno del marchio ragioniamo quindi all'interno del marchio quindi del sistema valoriale del marchio la permeabilità della struttura è un valore che sta all'interno della socialità ci sta la comunicazione ci sta tante altre cose all'interno del valore del marchio della socialità sicuramente anche sul trasferimento tecnologico ne abbiamo parlato tantissimo anche in eventi precedenti del bel fare e credo che in uno avevi partecipato anche tu proprio sulla problematica e sull'incapacità di attuare un trasferimento tecnologico a basso costo poi alla fine nelle strutture nelle realtà per i diversi ambiti di attività operativa e che darebbero un miglioramento della qualità di vita dell'anziano a partire proprio dalle cose più banali della domotica come l'accensione di una luce nel momento stesso in cui una persona si alza dal letto che eviterebbe sicuramente tantissime problematiche all'interno del tipo cadute o altre cose ma mi è venuta in mente la cosa più banale ce ne sarebbero tantissime e ne abbiamo viste ma non riescono a partire non riescono a introdursi nelle strutture residenziali per anziani in molte realtà non riusciamo neanche introdurre banalmente una cartella utente non dimentichiamo cioè quindi un banale software che vada a registrare e a gestire il processo sociosanitario assistenziale ok benissimo e comunque torneremo su questo dopo io ho visto che il tempo sta passando e vorrei anticipare l'intervento di Peter che quindi Peter Daniels di Humanitas che abbiamo avuto modo di conoscere ormai il tempo è passato perché 2019 che siamo stati in Olanda e siamo andati nella sua struttura siamo andati a trovarlo ci ha raccontato di cose che forse impensabili per molti di noi e per molti direttori che erano con me e con l'Eleonora in questa visita che era proprio quello di ridurre i posti letto cosa? perché cosa? per dare più spazio spazio vitale spazio privato e abbiamo visto come quello che stava dicendo Gianluca quindi dal vivo come si riesce a mettere insieme generazioni diverse per in maniera proattiva generazioni giovani e generazioni anziani chiederei alla Barbara intanto di mettere su il filmato ok provo e poi chiederei a Peter di alla fine del filmato di iniziare il suo intervento intergenerazionale connexione between young and old è la soluzione che abbiamo in 2012 quindi pensiamo ok possiamo cambiare la condizione di la schiena quando sei 69 possiamo cambiare le cose che come con getting old ma possiamo cambiare l'environment e'en van de leuze elementen in humain dat is denk ik toen ik Marty wele kenne dat denk ik wel want ik heb wel echt iets speciaals met haar opgebouwd vind ik en ik vind altijd leuk als wij even samen zijn ik vind het gewoon gezellig vandaar dat ik je als mijn kleinzoon beschouw wat weet je zeg niet nee zeg niet nee als ik vraag ga je mee zeg dan niet nee maar zeg ja zeg niet nee zeg niet nee hè 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 als je ga daar hoven zoon 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 nee doon maar zoon ja ik decided dat we are in the business of happiness piet her yes this was a nice introduction and it shows the core of our business in a very short video I will tell you some something more about our home and especially from my own perspective this webinar is about housing and to me housing is feeling at home and the remark that the room may be small as long as you have a window on the world which I saw coming by today I liked it very much that that's one of our basic principles we have an old building rooms are not the biggest but they comply with the government standards but well-being is very important and seeing people happy in a small space is a sight for soul eyes for soul eyes non so se c'è bisogno se traduco un attimo si si fa la sintesi si in pratica dice che ecco questo video è un po' la presentazione della loro della loro struttura come sia importante sentirsi a casa e che quindi anche se si vive in una piccola stanza ecco ci deve essere una finestra verso l'esterno ed essere quindi connessi quello che si diceva prima anche con la comunità ok Peter you can go ahead I've been working for Humanitas Davide from March 2014 to November 2020 I retired at the end of the year and my job was what is nowadays called chief happiness officer we don't call it that we call it worker of everyday life because that represents what we do much more but internationally people call it chief happiness officer student student resident program started in 2012 when we saw in the video our CEO came to Humanitas and that means that I've been an eyewitness from almost almost from the start the building the building and has always been a home for the elderly and due to a change in government regulations we had space left at one particular point now students need room need a room and have no money so Gea offered a room to a student from a nearby university ok allora questo programma di accogliere studenti è iniziato nel 2012 la loro struttura è sempre stata una residenza per anziani e diciamo la struttura risale al 1965 ad un certo punto per un cambio della legislazione hanno avuto spazi disponibili e quindi sono riusciti ad accogliere l'esigenza degli studenti che cercavano alloggio perché studiano appunto in una università vicina ok so we started with one student now we have six and what is very important to know is that they are residents so they are not workers they are not volunteers they don't pay rent and they are just asked to be a good neighbor and for humanitas this marked change from a home for the elderly to a community where everybody is welcome but not everyone fits okay the students thought it's a lesson so as Ono said when he came home from college when you enter humanitas life is slowing down slowing down to us was no longer a handicap as it is in the fast world outside but it became one of our qualities and this enabled people with a light mental handicap to catch on Then you have six resident students and six people living in Audible Project, which is a street just behind Humanitas. And then we knew we were on to something. So people from all over the world came to visit to see our residents with their own eyes. And they wondered that so many people seemed to have a good time. For us it meant we needed, we don't need to travel, the world is coming to us. Foreign students became interns. We do projects with neighboring schools and, for example, stories told by residents are turned into works of art by visiting students. Sorry, can you repeat? Sorry? Can you repeat? Can you repeat what you just said, Peter? Yeah. Foreign students, they became interns. And we do projects with neighboring schools. Yes. And stories that are told by residents are turned into works of art by visiting students. There are interactions between young and old almost every day. We have no trouble finding staff. We have 200 volunteers. Because people want to belong to our community. To give you an example, the mailman comes in in the morning to deliver the mail and he puts the envelopes on the reception desk and he goes to the coffee machine and has a two minute break. Ad esempio, on tel postino, ecco, non si limita solo a lasciare la posta, ma va anche al bar e quindi passa un po' di tempo all'interno della struttura. Sì, allora lui dice che la vita in una casa dove si dà assistenza non è solo fatta dall'assistenza ma è fatta soprattutto dal benessere, dal sentirsi bene. And in well-being it is that the young people play a great part, but also the visitors, the many visitors we have. E a questo benessere contribuiscono gli studenti ma anche i visitatori che hanno. questo è importante per essere felice. E in feeling felice, fricciione plays a part. E a questo miostra che pensi senti una buona le belle vita. Sì, dice che appunto queste visite portano una ventata di positività, che si dimenticano anche i problemi. Se un anziano ha male al ginocchio e fa una chiacchierata con qualcuno, ovviamente poi il problema passa in secondo piano. So there is mutual appreciation between young and old, and they tell each other stories about their lives. Quindi c'è questo apprezzamento reciproco tra i giovani e gli anziani, e si raccontano a vicenda storie ed episodi della loro vita. Do we, as staff, only facilitate, or we take part in the conversation? Lo staff in pratica facilita, oppure prende parte alle conversazioni, però ecco, l'interazione è spontanea. I heard Mario talk about our public spaces, our public areas, so the two gardens, and all the small and bigger public areas where you can sit down and talk, and where the coffee machine is always nearby. Quindi hanno degli spazi aperti, degli spazi pubblici, due grandi giardini, che menzionava anche Mario, che hanno visitato durante il viaggio in Olanda e in Belgio, e le macchinette del caffè sono sempre vicine, sono sempre raggiungibili. So, if you take it all together, you put it into one sentence, the general atmosphere is relaxed, be who you are. Ecco, per dirla con una frase, l'atmosfera generale è rilassata, e puoi essere quello che sei, sentirti quello che sei. E dice che appunto l'esperienza d'Umani ti dice che appunto l'esperienza d'Umani ti dice che ha creato il suo lavoro, il suo ruolo, che non c'è bisogno di descriverlo o di inquadrarlo, perché quello che fa è spontaneo, ed è un lavoro per la vita, ecco, che lui si sentirà in questo progetto per la vita. Ok, I'm happy to answer questions. Ok, se ci avete domande, risponde. Ok, grazie Peter, le domande le lasciamo alla fine di tutti gli interventi. Cosa posso dire? Io l'ho visto, sono stato lì, la convivenza intergenerazionale è possibile, perché l'ho vista fare lì. Ho visto una vera permeabilità della struttura, una permeabilità naturale. della struttura, e sicuramente ho visto operatori e persone che fanno il ruolo di facilitatori, ma le cose nascono spontaneamente. mi è piaciuta la definizione di manager della felicità, e sicuramente tutto questo è possibile solo quando a Monte c'è stato un pensiero, una rivoluzione degli spazi e degli ambienti, perché diventino degli spazi di vita reali. Non per niente vi dicevo che quando sono stato là, lì abbiamo visto, in realtà invece che ampliare il numero di posti letto, loro lo hanno ridotto. Stanze sono state abbattute per ampliarle, da due stanze e una stanza sola. cosa improponibile nei ragionamenti che possiamo avere e fare nelle nostre realtà, però alle quali dobbiamo sicuramente cominciare a ragionare. In quella logica di destrutturazione dei servizi che vada a incrociare un bisogno, un territorio, una tipologia di patologia o un patologo al bisogno. Ok, e a proposito, grazie Barbara per la traduzione, è stata ottima, per gli ignorantoni come me, con l'inglese sei stata... Proprio tutto, insomma, ci si arrangia dai. Fantastica, grazie. Grazie, grazie. Passo a questo punto la parola, perché i tempi si stanno stringendo, a Giorgio Pavan, che ci racconta della sua esperienza di co-housing di Bordo Mazzini. Giorgio, ci sei? Ci sono, tu mi senti? Perfettamente. Bene, adesso... Ti vedo anche. Un junior che mi mette in condivisione, perché gli junior servono anche a questo, no? Come supporto tecnologico. È una intergenerazionalità che ci consente, appunto, di fare queste cose. Volevo dire che non è propriamente... Sì, ho sentito tanti spunti e alcune cose mi vedono concorde, altre cose un po' meno. Partiamo anche dall'ultima esperienza, per dire che, ad esempio, in Olanda c'è circa il 6% di persone, usiamo il termine orribile dell'istituzionalizzazione, che comunque risiedono all'interno di strutture di vario tipo per persone anziane. La media nazionale italiana è del 3%, quindi non è così... Come dire, potremmo anche noi ridurre il numero di posti letto se avessimo il 6-7% come c'è in Olanda. Per cui, in verità, stiamo parlando di sistemi culturali completamente diversi e stiamo parlando di modelli di finanziamento e di sensibilità all'invecchiamento completamente diversi. Tutte le signorie che abbiamo visto nel filmato non appartengono all'immaginario, non immaginario, alla realtà operativa nostra, dove il tasso di mortalità è assolutamente troppo ridotto nelle nostre strutture e dove il tema della qualità della vita non è messo in primo piano, come viene messo in Olanda. Cioè, avere qualcuno che si interessa della qualità del vivere, della vita, delle persone, del benessere, come usiamo a dire, beh, la dice lunga sul sistema culturale di provenienza. Se noi avessimo il posto di 350.000, avessimo 800.000, 900.000 posti letto in Italia, come sarebbe la giusta proporzione, beh, forse potremmo anche noi, ad esempio, permetterci il lusso di poter allargare delle stanze, permettendo spazi diversi, una interazione sociale molto più sviluppata, eccetera, eccetera. Quindi questo noi dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo ricordare anche un'altra cosa, cioè che la filiera dell'invecchiamento, adesso si parla della qualità dell'abitare, nello specifico parlerò del co-housing, ma il tema del co-housing non è un tema a sé stante, il tema del co-housing è all'interno di una filiera. Adesso ha fatto riferimento all'inizio Franco sul tema appunto delle polemiche che stanno nascendo. Ad esempio c'è una commissione parlamentare nazionale nominata dall'ex governo, per fortuna, quindi speriamo non possa proseguire anche nel prossimo, tanto per dirla chiara, che si occupa del tema della non autosufficienza, vede dentro scrittori, poeti, aggiungerei nani e ballerine, ma non vede dentro nessuna persona che si interessa, ad esempio, della non autosufficienza da un punto di vista della grave non autosufficienza, perché delle due luna o li uccidiamo oppure procuriamo una qualità del vivere, una qualità, diciamo, dell'abitare anche a queste persone meno fortunate, migliore di quello che oggi scandalosamente noi proponiamo. I nostri sono livelli, quando va bene, di sopravvivenza e non sto parlando dei cattivi comportamenti, di quei delinquenti che fanno violenza agli anziani, che ovviamente devono passare per le patrie e galere senza ombra di dubbio. Sto parlando semplicemente che, ad esempio, con gli standard non del Veneto, che magari sta meglio di altre regioni, ma in generale degli standard di assistenza con i quali la politica pensa di assistere le persone non autosufficiente, ci si fa fresco al mattino, ma di pomeriggio e di notte si muore, senza tirare in campo i problemi legati al reperimento delle risorse umane, eccetera, eccetera, del valore dell'assistere della persona anziana. Ha ragione chi diceva che in verità è stata fatta una legge del dopo di noi, in verità stiamo parlando che ne sarà di noi. Io ho 60 anni e quindi sto parlando di cosa farò io e di cosa si prospetta rispetto a mio padre, ad esempio, il quale pensava fosse giusto che venisse accodito a casa dai propri figli, ma io, che vengo dopo di lui come generazione, penso che ai miei figli, ne ho due, non voglio rompere assolutamente le scatole. E quindi, se sono fortemente non autosufficiente, lo dichiaro già da ora in modo pubblico, mi va più che bene una struttura per anziani, centro del servizio, RSA, adesso sapete le terminologie sono diversificate nelle diverse regioni, in una struttura per anziani senza rompere le balle ai figli, questo è quello che penso io. Se poi vorranno venirmi a trovare ogni tanto, va anche bene. Quindi sto parlando di un sistema che è anche un sistema di cambiamento culturale e all'interno di questo sistema di cambiamento culturale noi dobbiamo articolare ciò che in Italia agli estremi vede l'assistenza domiciliare poca, 3%, e l'assistenza istituzionale, istituzionalizzata, poca, 3%, e in mezzo il vuoto. In questo vuoto ci sono tutti gli anziani e, diciamo così, in linea teorica noi potremmo dire che dovrebbero esserci tanti servizi quando ci sono le necessità. E quindi, in verità, tra i due estremi di questo contenuo noi dovremmo avere una serie articolata di servizi che tanto per dire, insomma, la ricostruzione delle comunità, sentivo, no? dei paesi di montagna, eccetera, bisogna riragionare in termini di non costruire, a ragione, basta cemento, ce n'è anche troppo, basta ricostruire dei legami di comunità perché quando le persone diventano anziane, diversamente da una volta, adesso sono più disponibili a cambiare la propria residenza, magari per abitare in una residenza vicina, quando il valore non è l'abitazione nella quale sono, ma è quanto mi sento maggiormente in sicurezza e in relazione con le altre persone. Intanto per dirla in slogan, non è tanto importante dove una persona abita, ma come una persona sta. E allora, se una persona sta meglio in una comunità, bene che vada lì, se sta bene in una resa, bene che vada lì, se sta bene a casa sua, bene che rimanga lì. Ad esempio, innovando tutto il parco tecnologico di assistenza da remoto attraverso il quale una innovazione del servizio di assistenza domiciliare deve passare. Questa è un po' di Israel, insomma, questa foto è quella più emblematica, più avevano anziani da tutte le parti, quindi dobbiamo darci una mossa. Partendo dalle nostre strutture e andando a diversificare quello che ho appena detto, cioè cercare di colmare la filiera, noi in Israel abbiamo cercato di fare questo, diciamo così, la parte rossa sono tutte le nostre 850 posti letto che abbiamo per non autosufficienti, ma poi abbiamo sviluppato, ad esempio, tutto il tema del servizio di assistenza domiciliare, seguendo 7-8 comuni, adesso si aggiunge il Gris, insomma, no il Gris, Moliano-Veneto, eccetera, e quindi incrementando la nostra presenza nel territorio, perché la testa del territorio non è solo la finestra nel territorio. Come giustamente dice l'amico olandese, il territorio vuol dire vivere il territorio. Noi da 5-6 anni a questa parte che seguiamo migliaia di persone a domicilio, abbiamo cambiato la nostra testa, è una testa proprio che funziona in termini diversi. E allora non basta solo aprire le nostre porte, dobbiamo, come dire, integrarci con la comunità ed essere punto di riferimento. Mi piace parlare dei nostri centri di servizi come una parrocchia laica del socio sanitario, cioè quando in una comunità qualcuno ha qualche problema di carattere spirituale, magari va dal prete, se è un credente, ma se ha qualche problema legato all'invecchiamento, deve venirgli naturale non andare in ospedale, nemmeno dal medico di medicina generale, che gli dici prete, si veccio, buonanotte, nemmeno dal distretto, perché il distretto non è dentro la cultura del cittadino, ma deve venire nei nostri centri di servizi aperti H24 e disponibili, ok, dobbiamo essere disponibili, a 360 gradi. Abbiamo sviluppato il tema della comunità, della rete Alzheimer, del SAD, eccetera, eccetera, e in fondo a destra vedete anche il tema del Borgo Mazzini Smart Co-Housing. È quell'area gialla che vedete nel piccolo riquadro, perché non ci poniamo il problema di trasformare un piccolo locale nostro, che in verità non è neanche piccolo, in un co-housing. Si interessa dialogare in termini di quartiere, in termini di borgo. Noi vogliamo cambiare l'area del borgo, cambiando una parte strutturale del borgo, facendo in modo che i cittadini scelgano di vivere in quel contesto. Questa è una visione, ecco, queste sono le aree un po' che noi occupiamo. Noi stiamo lavorando in modo particolare sulla parte sinistra, nella parte verde, rossa e blu. Questo è oggetto del nostro intervento e della trasformazione in co-housing. Fate conto che alla fine vengono fuori sette co-housing per un totale di 45 alloggi dai 45 ai 60 metri quadri, in sette gruppi di co-housing, e di questo il 60% del lavoro è già stato fatto ed è abitato. Quindi stiamo adesso andando con l'ultimo straccio, che è il terzo, dove c'è un bellissimo chiostro, eccetera, eccetera. Tralascio un po' di storia per dire solo che abbiamo rilevato i problemi di isolamento sociale, solitudine, sicurezza, gestione economica, autonomia e salute. Questi sono i sette elementi, i sei elementi che abbiamo evidenziato. Sulla destra, la soluzione attraverso co-housing, vivere in centro, vivere insieme con spazi condivisi e propri, vivere in un contesto protetto, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo scoperto che il co-housing può dare una risposta mantenendo l'autonomia. Abbiamo fatto una roadmap in quattro punti. La prima è la presentazione della idea alle istituzioni. Se non si creano le condizioni politico-istituzionali non si va da nessuna parte, neanche se hai i soldi in tasca. Ci sono tanti tentativi di co-housing che non hanno creato condizioni politico-istituzionali e sociali e sono stati dei fallimenti economici fatti dai privati che avevano una cultura immobiliare. Allora, Regione, Comune, Provincia, ULSS e tutti gli stakeholders interessati hanno partecipato ai presupposti istituzionali. Abbiamo sensibilizzato la cittadinanza, si è fatto una cultura sul co-housing. Quando abbiamo iniziato nessuno a Treviso sapeva cosa volesse dire co-housing. Dicevano sempre questo inglesismo, eccetera, eccetera. Adesso tutti sanno, molti sanno che cos'è. Quindi conferenze, iniziative, televisioni, gruppi di studio, eccetera, eccetera. Terzo, abbiamo il terzo che è l'asso nella manica. Abbiamo avviato la progettazione partecipata. Oltre 200 cittadini divisi in quattro gruppi, socialità, buon invecchiamento, sostenibilità economica e luoghi di vita, spazi abitativi, eccetera, eccetera, hanno partecipato alla progettazione partecipata in modo diversificato e hanno strutturato le linee programmatiche che sono state poi recettite in una delibera del Consiglio di amministrazione e quindi sono diventate regole del sistema. Tanto per dire gli elementi valoriali, il tema dell'inclusione sociale, il tema del contratto di valore, il tema delle barriere, eccetera, eccetera. Ma anche il tema che, ad esempio, ogni appartamento deve avere anche una scabuzzina perché le signori dicono, quando viene dentro qualcuno a casa mia, non voglio che le scoppe siano in evidenza, ma devo avere uno scabuzzino. Quindi andiamo dai massimi sistemi ai microsistemi attraverso il lavoro di questi quattro gruppi. Vado veloce perché, insomma, i principi poi sono quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono anche quelli dell'Europa dove, insomma, abbiamo recepito, integrato e fatto proprio una serie di elementi, insomma, importanti. Queste sono tutte le domande che sono state poste ai cittadini che hanno partecipato con una serie di attività tipo focus group piuttosto che world, caffè, attraverso la partecipazione, insomma, per definire quelle che prima indicavo come le linee. Ad esempio, alcune innovazioni interessanti che sono venute fuori dai gruppi di lavoro è il tema della valorizzazione del vicinato, l'importanza della valorizzazione del volontariato senior, il tema del portiereato sociale, il tema della banca del tempo, dedicato anche agli esterni, includendo anche il tema intergenerazionale. Il contratto di valore che integra elementi di principi di solidarietà, integra elementi di come si usano gli spazi comuni, se entrano o no persone dall'esterno, le regole del co-housing, la presenza degli animali, come per dire i partecipanti, i cittadini hanno definito le linee di un vivere comune, rispettoso dell'individualità, ma anche della scelta di convivere assieme. Da un punto di vista architettonico abbiamo scomodato ovviamente gli elementi di fondo dell'universo, declinando sostanzialmente quei principi e modulando la presenza di una tecnologia avanzata sia nella domotica, sia propriamente nei sensori che in qualche maniera solo se qualcuno vuole può attivare perché altrimenti si lascia nella piena autonomia. se uno non vuole essere ripreso è giusto che possa rinunciare. Abbiamo cercato, nel migliore dei modi, avendo un vincolo, intervenendo a noi in un contesto di un convento del 1500. Quindi vi lascio immaginare che cosa ha significato interloquire con la sovrintendenza per trovare le mediazioni per fare stare insieme il recupero di un bene che altrimenti sarebbe stato venduto al Benetton di turno, mantenerlo pubblico perché siamo una IPAB, restituirlo alla città nei suoi anche giardini interni e fare in modo che i cittadini potessero scegliere di vivere assieme all'interno di questi contesti. Queste sono alcune ispezioni, ad esempio queste aree verdi sono recuperate, prima non erano restituite alla cittadinanza, ora sono restituite alla cittadinanza e questo è un elemento di valorizzazione. Questo è stato recentemente peraltro recepito anche dalla nuova giunta comunale, non solo dalla vecchia ma anche dalla nuova giunta comunale che ovviamente ci crea anche tutte le condizioni per poter lavorare alla cremente e andare avanti nei lavori. Vi ho detto che ci siamo interessati al borgo e non solo alla struttura, quello che vedete in centro è tutta la nostra struttura e dove stiamo lavorando, investendo economie importanti anche attraverso forme di ripatrimonializzazione ma anche altre forme di cui io dopo darò un accenno. Vorrei anche così aiutare la nostra collega a non continuare a ripetere che sapete con il tempo che siamo, con le economie, c'è un recovery fund da 209 miliardi che si sta sviluppando nella progettazione italiana, ci sono i portfers che ogni anno prevedono delle economie strutturali da questo punto di vista e ci sono centinaia di progetti europei che ci aiutano anche a recuperare le economie. Quindi tiriamoci sulle maniche e speriamo in un futuro, costruiamo un futuro perché capisco che partiamo come partiamo, lo dicevo all'inizio, nel confronto tra l'Italia e l'Olanda, ma questo non deve abbatterci, deve viceversa darci la forza per lottare, tra virgolette, ancora di più. La vedete davanti, noi abbiamo chiesto la pedonalizzazione di tutto Borgo Mazzini e l'ultima giunta ha dichiarato pubblicamente che nell'arco dei prossimi tre anni lavorerà in questa direzione. Quindi noi cambieremo proprio il senso del vivere all'interno del Borgo perché la pedonalizzazione in centro non è un argomento tanto semplice da affrontare sul piano politico, visto come la pensano i commercianti. Ecco, la parte rossa in mezzo che vedete, che collega le aree gialle che sono di pertinenza dell'Isra, diventerà pedonalizzata e quindi sarà un altro vivere con degli alberi in mezzo e quindi anche un recupero ambientale in centro città che sarà fantastico. Questi sono alcuni dettagli degli interni per studiare la domotica, le possibilità del controllo su tutta la struttura. Questi sono i soldi che noi spendiamo. Trattasi in parte di una ripatrimonializzazione, vale a dire delle vendite rispetto alle quali siamo andati a fare degli investimenti, fondi europei vitalizi e lasciti e mutui. Allo stato attuale, questa slide è vecchia, quello sulla sinistra lo vedete di 6 milioni, effettivamente siamo attorno ai 4 milioni e mezzo di vendite e ripatrimonializzazione, fondi europei abbiamo preso per adesso un milione e stiamo concorrendo per un altro milione, i lasciti e vitalizi diciamo così, abbondiamo oltre i 3 milioni di euro, vale a dire che il Fond Rising e le attività di sollecitazione noi sappiamo di avere come nostro competitor la Chiesa e stiamo dicendo agli anziani che la Chiesa pensa allo spirito, noi pensiamo ai corpi prima che lo spirito rimanga l'ultima cosa insomma che sopravvive, per così dire, al corpo. Questo sta producendo anche dei discreti benefici perché è il tema del dono per il bene pubblico, noi stiamo cavalcando questa idea e molti anziani soli, vi ricordo che nella provincia di Treviso il 50% degli uteri a 70 anni oggi sono persone sole, sole, che hanno dentro di sé il problema dell'insicurezza della salute, dell'insicurezza della solitudine, dell'isolamento sociale, della paura del ladro alle 8 della sera, della casa che non riescono a manutentare, eccetera, eccetera. Quindi noi non vendiamo appartamenti, non siamo immobiliaristi, noi cerchiamo di vendere serenità. Chiudo perché i prezzi sono popolari e quindi perché non vogliamo mirare al ricco, nemmeno al povero, al povero ci pensa in comune, i nostri prezzi sono popolari e sono all inclusive, vado avanti per dire la parte alta e la parte bassa, la parte alta era quella vecchia, la parte bassa è quella nuova, già abitata, queste sono foto già vecchie, sono già foto migliori, insomma, che oggi non sono riuscito a recuperare. Questo è il giardino, ha fatto riferimento Franco all'inizio, la Home for Life e sono sei dimensioni dell'accreditamento, avremo modo in un altro momento di approfondirli con l'Università di Ancona, il management, la dimensione personale, sociale, economica, fisica e la relazione con l'ambiente esterno. Abbiamo avuto, peraltro, le certificazioni, diciamo, da parte di questo gruppo europeo e questa è la nostra scommessa finale, il chiostro, che stiamo affrontando proprio in un progetto definitivo, proprio in questo momento. La riutilizzazione del chiostro sarà il momento edificante per tutti noi. abbiamo già realizzato tutta una serie di cose, ci rimangono gli 8 più 8 che vedete sotto, su 46 ci rimangono ancora 16 alloggi e la ristrutturazione conseguente. Le sfide, vivere nel borgo sino alla fine della propria vita, promuovere l'invecchiamento attivo, sviluppare una cultura centrata sui concetti di solidarietà, di comunità e di buon vivere. Chi sono i Gohousers? Persone che hanno chiarissima l'idea, sono persone che hanno maturato in modo cristallino l'idea di vivere assieme. Sono persone di cultura media e medio alta, con buona autonomia economica e che sanno progettare quello che chiamiamo noi il sé possibile. Quando tu non hai idea di cosa farai e quando magari ti informi e scopri che ad esempio c'è l'ipotesi e la possibilità di co-housing, scatta proprio il concetto del sé possibile. Quindi posso pensare a me in termini diversi. Grande successo di iniziativa, domande da tutte le parti, ma anche, e concludo con questo perché altrimenti per un altro tempo... Abbiamo ancora un altro intervento che chiedo di dare in chiusura... Chiedo completamente per dire che di operazioni di questo tipo sono interessate IMSS, Chiesa Comuni, cioè tutti coloro che hanno un sacco di patrimonio e non sanno come riutilizzarlo. Quindi noi dobbiamo mettere assieme A, chi ha il patrimonio, B, chi ha i soldi, tre, chi vuole vivere insieme. Questa è la questione. Noi la chiamiamo co-housing a mediazione istituzionale perché il cittadino vuole qualcuno che dia garanzia di quello che si sta facendo e chiudo proprio su questo perché ci credo fino in fondo. I centri di servizio sono organi di garanzia che sono nel territorio e non sono quindi una banca che prende i soldi e scappa come ha detto banca o altre banche. Noi siamo la garanzia istituzionale e il progetto del co-housing e di un territorio organizzato e riorganizzato può passare attraverso di noi. Grazie. Ok, grazie Giorgio. Passo adesso velocemente la parola perché abbiamo tirato lungo. Sono d'accordo con alcune cose che ha detto Giorgio relative al contesto. È chiaro che il contesto è diverso, il contesto è diverso in Rolanda ma è anche diverso da Treviso nel senso che anche Treviso è un contesto diverso da quello del veneziano e dispone di risorse diverse però questo non significa che non dobbiamo mirare a quelli che sono i buoni modelli e le buone tassi e le buone esperienze e su questa buona esperienza vi do la parola a Massimiliano Colombo direttore del Vannetti che ci parla di come vivere un territorio in quel dirovereco una struttura in un territorio a te bene buonasera a tutti allora racconterò cercando di semplificare e sintetizzare qualche traccia del nostro percorso di differenziazione della nostra offerta di servizi per anziani residenziali e in co-housing noi a PSP Vannetti operiamo a Roveretto in Trentino e la nostra PSP raccoglie l'eredità di due IPAB precedenti una operava nell'housing sociale e ci ha lasciato tutto il suo patrimonio di immobili distribuiti nel centro storico per lo più l'altra operava nei servizi per anziani e ci ha lasciato in eredità la gestione di RSA quindi noi combiniamo servizi per anziani differenziati housing sociale per diverse anche fasce generazionali e siamo impegnati nella ricerca di una differenziazione possibile dei nostri servizi sulla città di Roveretto mi aiuto con qualche slide pochissime giusto per dare un po' di colore anche alla presentazione allora adesso dovreste vedere se riesco a farla scorrere ecco questa è la mappa il territorio diciamo del centro storico di Roveretto il Roveretto è più grande e qui come vedete focalizzato sul centro storico i punti rissi sono i luoghi nei quali sono situati gli edifici che stiamo destinando a tipologie di housing leggermente differenziate proprio per intercettare bisogni sociali personali e esistenziali diversi e articolare e differenziare il più possibile la nostra filiera ecco in questo primo punto a destra isolato tra l'altro c'è anche la nostra sede legale e amministrativa la nostra RSA e quello che il centro il cerchietto rosso punta su un edificio che è destinato ad alloggi protetti in qualche modo integrati e collegati con la nostra struttura e partiamo proprio da questo cioè un servizio nato ormai 16 anni fa concepito come mini alloggi autonomi quindi ciascuna persona sostanzialmente vive a casa propria in un appartamento di 35 metri in un edificio monoproprietario del comune di Roveretto nel quale noi assicuriamo una protezione sociale basata sulla presenza di nostri operatori per 4 ore ogni mattina e poi una forma di custodia assicurata attraverso il pronto intervento su chiamata di operatori del servizio domiciliare è un progetto maturo adesso andremo a fare un restyling ridisegneremo la convenzione che ci affida la gestione che abbiamo stipulato con il comune di Roveretto è però di successo nel senso che incontra la soddisfazione degli residenti delle famiglie anche se prospetta una forma di vita abbastanza permettetemi quasi condominiale nel senso che ogni persona anziana ha un suo nucleo appartamento organizza la sua vita in modo autonomo si reca facilmente a piedi nel centro per provenire tutto ciò che serve c'è una forma di socialità che noi cerchiamo di incoraggiare tra inquilini interveniamo poi con prestazioni di SAD servizio di assistenza domiciliare modulate sul bisogno quando le persone hanno esigenze più importanti possono accedere al centro di urno a piano terra questo è un esempio tradizionale se volete di alloggio protetto che assicura un certo livello di protezione però per persone abbastanza autonome autosufficienti la nostra esigenza era quella di cominciare ad immaginare di differenziare la filiera andando verso sistemi di housing sociali che potessero dare maggiore livelli di protezione sicurezza e garanzie per le persone anziane pur valorizzando le loro capacità di autonomia allora vorremmo valorizzare un secondo nostro edificio era un secondo puntino che trovavate nella mappa prima praticamente in pieno centro storico nel nucleo proprio più antico della città in prossimità della torre civica questo edificio che avete sulla sinistra è stato ristrutturato con questa visione di riferimento non mini alloggi in una sorta di condominio ma un grande appartamento anzi sono due grandi appartamenti su due piani immaginate un appartamento di 200 metri quadrati nel quale le persone anziane dispongono di una propria stanza ecco che assicura una dimensione di autonomia mentre affaccia poi su locali di uso comune nei quali si organizza la vita domestica quotidiana con la presenza di operatori ecco questo è un nostro progetto non è ancora partito perché non abbiamo ancora la piena disponibilità dell'edificio però la prospettiva è questa voglio ricordare un modello che probabilmente è noto quello del co-housing casa alla vela sviluppato a Trento da una cooperativa sociale cooperativa SAD dove appunto si prospetta questa coabitare insieme in un appartamento con la presenza poi di forme di lavoro domestico condivise tra più utenti quindi questo è un altro esempio di co-housing che vogliamo sviluppare a Rovereto ma il fuoco dell'attenzione oggi è su quest'altro soluzione questo è un altro nostro edificio 100 metri più sotto vedete che in fondo si vede la torre che era ritratta nell'immagine precedente questo edificio adecente questa chiesetta una facciata modesta ma in realtà è molto profondo è molto complesso articolato ed è stato da noi ristrutturato con un contributo provinciale immaginando che possa ospitare due servizi tra loro integrati un centro servizi per anziani del territorio e appunto questa forma di co-housing per anziani ricordo che il centro storico è il luogo di Rovereto nel quale insiste il maggior numero di anziani per lo più soli quindi la popolazione del centro storico è sbilanciata verso la popolazione anziana quindi questo nostro intervento ha molti significati di riqualificazione urbana del centro storico e in una parte un po' spenta dal punto di vista commerciale che deve in qualche modo essere ripopolata e rianimata e offrire poi agli anziani del territorio un punto di riferimento che permetta loro di vivere con maggior qualità di vita nel loro ambiente quindi un luogo della comunità che in qualche modo sia punto di incontro spazio di partecipazione sociale luogo nel quale ritrovare relazioni trovare sicurezza produrre e beneficiare di servizi di prossimità autoprodotti dalla comunità locale con il nostro supporto con la nostra regia questo è l'edificio quindi la freccia a destra è l'ingresso che vedevamo prima questo ingresso con questa porta che ed è un edificio sviluppato in verticale su sei piani come vedete nei piani superiori ci sono questi alloggi e allora e nei piani inferiori c'è un centro servizi per anziani con un accesso separato quindi a due ingressi sono tutti collegati c'è un ascensore che attraversa l'intero edificio quindi l'anziano che risiede nel suo alloggio nell'ultimo piano con l'ascensore scende in un centro servizi anziani poi esce si trova in città in pieno centro storico con l'accesso quindi a tutto ciò che c'è in termini di servizi e opportunità ecco l'idea che abbiamo seguito in questo progetto è intermedio rispetto ai due precedenti non è un grande appartamento dove la persona ha semplicemente una stanza e tutto il resto è condiviso nemmeno mini appartamenti in una sorta di condominio sono mini appartamenti quindi sia un'unità abitativa autonoma che possono essere bilocali o monolocali ma con punto cottura bagno quindi una persona può organizzare la sua vita in modo del tutto autonomo che affacciano però su locali che possono essere luoghi di soggiorno condivisi quindi ci può essere la possibilità di riprodurre una nuova convivenza pseudo familiare o para familiare tra residenti in modo che hanno la loro autonomia abitativa nel loro appartamento ma nello stesso tempo hanno spazi ampi arredati confortevoli accoglienti per poter vivere insieme e fare anche attività le più diverse sono numerosi locali per esempio tra l'altro scendendo poi c'è un piano che è una cerniera tra centro servizi del piano inferiore e appartamenti di sopra una cucina comune immaginata come un luogo dove le persone possano se lo vorranno poi sono tutte cose che strada facendo costituiremo consumare un pasto comune che potrebbe essere o la sola colazione o il solo pranzo o la sola cena una cucina comune una cucina comune peraltro che pensiamo accessibile anche ad anziani del territorio quindi sovradimensionata rispetto alle necessità dei soli residenti degli alloggi è pensata come luogo di accoglienza per gli anziani del territorio l'idea è che chi vive solo negli appartamenti limitrofi del quartiere possa trovare in questo luogo di comunità un punto di approdo dove ritrovare legami dare senso alla sua vita partecipare esprimersi e anche vivere momenti di vita quotidiana come per esempio produrre e consumare insieme il pasto oppure svolgere in questa seretta polivalente qualsiasi tipo attività creativa motoria ricreativa culturale oppure soggiornare in questo bar a piano terra che è un punto di accesso a un servizio a bassa soglia che in qualche modo permette a tutti di entrare senza sentirsi fuori luogo ricordo che tra l'altro questa esperienza è stata sviluppata da noi anche in altri quartieri abbiamo visto per esempio che in un'altra realtà verso il fiume Adige Borgociacco l'idea di aprire l'RSA ha portato a permettere agli anziani del territorio di occupare queste cucine comuni in questi spazi comuni e autogestirli al punto che è nato una sorta di centro servizi senza gestore perché se ne sono appropriate le persone se l'autogestiscono purtroppo il covid ha interrotto questi processi che erano in atto e stavamo in qualche modo coltivando per consolidare poi strada facendo che dire ancora non c'è solo un progetto architettonico questo edificio è già pronto e arredato stiamo aspettando che si allenti un po' la morsa della pandemia abbiamo fatto un percorso quadriennale a monte di lavoro di comunità di sviluppo di comunità con progetti sostenuti dal comune ma anche da altri enti penso al bando a chilometro zero della fondazione casa di risparmio di Trento Roveretto quindi abbiamo già fatto un percorso con gli anziani del territorio per aiutarli a ritrovarsi tessere reti sviluppare forme di partecipazione di volontariato autogestire forme di servizi di prossimità e in qualche modo intravedere in questo luogo in questo edificio uno spazio dove poter vivere uno spazio da di cui appropriarsi ecco quindi mentre lavoravamo sui muri abbiamo lavorato anche con le reti con le persone ecco c'è un'altra questione che mi sembra importante siamo tradetti ai lavori stiamo anche progettando insieme ai muri all'edificio i processi sociali culturali eccetera l'assetto istituzionale gestionale di questa nuova soluzione abitativa quindi stiamo immaginando che questi residenti in questi alloggi possono dare vita a una sorta di convivenza autogestita che possa essere titolare di rapporto di lavoro domestico quindi immaginiamo che una parte del menage domestico familiare sia gestito mediante badanti condivise cogestite e una parte invece del tutto sia gestita con il nostro operatore anche con un psicologo per assicurare tutti i processi di mediazione necessari affinché ci sia un buon andamento delle relazioni di convivenza coabitazione che assicuri condizioni di valorizzazione di ogni persona di rispetto reciproco quindi stiamo un po' lavorando anche su questi aspetti giocando un po' di sponda col servizio sociale comunale che si sta seguendo in questa progettualità che serve per dare risposta all'invecchiamento demografico e per dare prospettive di in qualche modo rigenerazione urbana a questa parte della città che si stava un po' spegnendo ecco penso di aver detto tutto nel tempo minore possibile per me vi ringrazio per l'ascolto grazie Massimiliano sei stato velocissimo e chiarissimo mi piace i lavori che state avviando lì a Rovereto chiaramente rallentati dalla pandemia però vedo che le idee la strada è tracciata ok benissimo siamo arrivati alla fine purtroppo abbiamo sforato i tempi stabiliti se non ci sono particolari richieste e domande da parte di chi ha partecipato a questo evento a questo webinar io procederei do qualche secondo per eventuali domande brevi a tutti altrimenti visto che abbiamo sforato i tempi io ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti e che sinceramente abbiamo faccio una parentesi noi facciamo sempre un errore facciamo degli eventi sempre pieni di contenuti pieni di interventi bellissimi che alla fine ogni singolo intervento meriterebbe uno spazio ancora più ampio per andare ad approfondire e sicuramente avremo altre occasioni di fronte a noi perché oggi ci sono venuti fuori tantissimi spunti interessanti tantissime esperienze interessanti che meriterebbero un approfondimento a partire dall'ultimo intervento di Massimiliano un approfondimento su come si sviluppa poi in pratica il suo progetto con la sua coprogettazione territoriale quali sono le scelte anche che mi si è piaciuto perché c'è stata una logica vediamo un attimo anche di capire a livello amministrativo come si fa sicuramente e quindi ringrazio Massimiliano per la sua presenza ringrazio dall'ultimo fino al primo Peter Daniels di Humanitas che è stato gentilissimo e ci ha raccontato la sua esperienza ringrazio Giorgio Pavano che ci ha raccontato l'esperienza di Treviso posso fare una domanda ma dai ok Daniela vabbè la domanda chi la fai ascolta no volevamo chiedere indicativamente quanto potrebbe essere il costo di un affitto di questi chiamiamoli mini appartamentini giusto per intenderci a Rovereto non la classica casa di riposo non la retta da casa di riposo nella nostra programmazione i primi appartamenti oggi sono sui 650-700 euro al mese al mese su questi ultimi invece andiamo sui 1500 ok senza in questo caso senza assistenza con tutto incluso ma senza assistenza questa mini filiera l'ultima che ho presentato dovrebbe avere un livello di presidio relazionale sociale assistenziale molto importante ecco per questo e questo giustifica anche il prezzo più alto quindi intercetti bisogni diversi si rivolgono a persone con particolare fragilità che quindi sentono la necessità di una di entrare in una forma di convivenza ancorché autogestita e basata su risorse appunto di quali possono essere il lavoro domestico condiviso ecco certo benissimo grazie mille ok vado avanti a ringraziare o avete qualche curiosità ancora io avrei ancora una domanda scusate ma è stato così interessante che avrei 25.000 domande molto probabilmente vi contatterò personalmente poi per farvela direttamente sì sì potrebbe essere un'idea che assolutamente convergano qui da noi alla segreteria del marchio qualità e benessere tutta una serie di domande che poi noi rigireremo agli interessati e pubblicheremo nel blog del marchio in maniera tale che poi queste domande e risposte siano condivise ultima veloce domanda sempre a Massimiliano di Rovereto nei servizi secondo lui è compreso anche tutta la parte ristorativa oppure esclusa? sì in quell'importo è incluso anche la parte ristorativa immaginando che ci sia una sorta di cassa comune che possono organizzare la spesa e possono autogestire anche la produzione e il consumo quindi non un servizio di ristorazione offerto dal lente soggetto a tutte le norme ma autoprodotto dalla convivenza ok grazie grazie salutiamo ok no tranquilla bene quindi vado avanti con i ringraziamenti dicevo che ringraziavo Peter Daniel che dall'Olanda ci ha dato la sottostimulanza ma ringrazio anche Gianluca Darbo che ha fatto un bellissimo intervento Silvia De Rizzo e Davide Zennaro che ci hanno spiegato di come in un'altra maniera in un altro contesto territoriale sia importante la coprogettazione e il riuso e al fine di ridurre la cementificazione anche se i soldi per fare la nuova struttura ce l'avevano e ringrazio Franco Iurlaro per la sua precisione e analisi del di questo aspetto che diventa sempre più importante da prendere in esame quindi non solo coasi cioè non solo nuove soluzioni di abitare ma anche soluzioni di abitare in strutture già esistenti che dovranno essere diverse nel prossimo futuro quindi grazie grazie a tutti i partecipanti che hanno avuto la costanza di rimanere collegati fino alla fine Mario ti sei dimenticato bravissimo dimenticavo l'ho già annunciato prima 24 febbraio è importante perché lavoreremo sul documento con gli estensori quello da cui ha accennato prima Franco Iurlaro e poi altri due appuntamenti 10 e 24 marzo altri due appuntamenti importanti però ovviamente riceverete tutto ma il save the date penso l'abbiate ricevuto per tutti e quattro gli appuntamenti grazie scusate l'intervento al volo buona serata a tutti direi meno Mario chiudi buona serata